Indagavano su un presunto affiliato allo Stato Islamico, ma si sono imbattuti in una organizzazione criminale con sede operativa a Cosenza, finalizzata a combinare, dietro pagamento di somme consistenti, matrimoni tra italiani e migranti, così da consentire ai coniugi di nazionalità straniera di poter regolarizzare la propria posizione nel territorio comunitario. Due persone sono finite ai domiciliari, per una terza è scattato l'obbligo di firma, ha contestato il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranievi nel territorio italiano. Diverse le perquisizioni operate nel complesso, gli indagati sono 27, l'inchiesta ha preso il via dalla provincia di Salerno. L'indagine parte nel 2016, ma subito capiamo di questa direzione verso la Calabria, quindi verso Cosenza, e verso questa attività di matrimoni fittizi. I particolari dell'operazione denominata San Valentino sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Tra gli stranievi da tempo si era sparsa la voce dell'esistenza a Cosenza di un gruppo organizzato in grado di procacciare uno sposo o una sposa, ma anche di assolvere alle pratiche per le pubblicazioni del matrimonio, per il reperimento di una residenza fittizia e per il successivo rilascio di carta d'identità e codice fiscale con cui i migranti acquisivano il diritto di muoversi liberamente tra i paesi del trattato di Schengen. Ed un tratto una persona parte da Salerno, arriva qua sapendo che c'è Tizio e Caio che può combinare un matrimonio. Il tariffario prevedeva un costo più salato se erano le donne a cercare marito, in questo caso la somma da sporsare sfiorava i 7 mila euro. Le indagini hanno accertato la contrazione di sette matrimoni fittizi, tutti celebrati nell'area urbana del capologo Bruzio. Venivano richiesti da parte degli extracomunitari soggetti che si prestassero a stipulare matrimoni fittizi e qua c'era un'organizzazione con un vertice che aveva il compito di individuare chi si prestasse a sposarsi con questa gente. Oltre al promotore, il gruppo criminale era composto da altri sei italiani e da tre cittadini marocchini. Alcuni degli sposi italiani hanno tentato anche di ottenere dal coniuge straniero altre somme di denaro dietro minaccia di avvio della pratica di separazione che avrebbe comportato l'impossibilità per il migrante di ottenere la cittadinanza italiana. Salvatore Bruno per la C News 24